Musica Bella raga Benzani di play in questo nuovo video Oggi c'è un nuovo video Se parlo a bassa voce perchè è l'1.7 Ma volevo fare un video Dello shop in diretta Là abbiamo il negozio Come potete vedere abbiamo ancora il punto Esclamativo quindi non sono andato a guardarlo Non mi sono spoilerato niente Dello shop E' appena uscito perchè lo shop esce a l'1 di notte Come ho fatto a vedere ora Come ho fatto a vedere ora Sono l'1.8 Quindi Facciamo così E abbiamo là Possiamo vedere una skin là Però andamola a vedere meglio nello shop Ok raga Questo qui è lo shop Del 10 marzo 2019 Quindi abbiamo lei 1200 V-Buck Skin blu A me sinceramente Non lo so non mi piace tanto Macete Sentiamo il sound Questo è il tablando che è molto bello Fighissimo Problema che Non lo comprerei Poi una skin da 1500 Chirurgo da campo Epica Infermiera Ascolto il suo bat pack E abbiamo Come bello esilarante E segni con le mani Abbiamo questo piccone Bello Ok raga Quindi adesso sentiamo Il sound di questo piccone Ascia frizione Ok Poi abbiamo armadillo Skin maschile Comune di scorpion Non mi piace Non mi piace Per niente Poi fa cocero Come del tablano da 500 Sentiamo di nuovo il sound E poi abbiamo esilarante Esilarante Ah si bello Non fa la double Ok raga Quindi Questo qui È lo shop Lei come nuova skin Ci sta Problema che Non lo so Non mi piace tanto Quindi raga Questo qui È lo shop Del 10 marzo 2019 Se Questa tipologia di video Ti è piaciuta Lascia un like Se ne vuoi altri Che Ve li potrei portare Quindi raga Iscrivetevi al canale Lasciate un like Condividete E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao